Dai monasteri arroccati su picchi verticali a un uomo nascosto in una grotta vicino alla cima di una collina. Guarda le incredibili riprese di droni in alta montagna che hanno lasciato tutti sotto shock. Numero 1. Meteora, Grecia. Quale modo migliore per iniziare la nostra lista di incredibili riprese con droni in alta montagna se non con Meteora in Grecia? Guarda questo filmato della zona con un drone che ti trasporta istantaneamente in una terra da favola. Meteora significa il sospeso nell'aria in greco, e la sua più grande attrazione sono questi incredibili monasteri arroccati su picchi verticali. Le strutture metalliche in arenaria su cui sono stati costruiti i monasteri hanno un'altezza media di 300 metri e alcune raggiungono i 550 metri. Vedendo queste incredibili immagini, non sorprende che l'UNESCO abbia dichiarato Meteora patrimonio dell'umanità. Numero 2. Fanjing Shan. I due templi assolutamente incredibili che vedi qui in questo filmato drone sono situati nella catena montuosa, più diversificata di tutta la Cina, chiamata Fanjingstan. È la montagna più alta della Willing Range e la sua vetta più alta è a circa 2438 metri sul livello del mare, il che significa che devi attraversare le nuvole per raggiungerla. Il punto di riferimento più famoso di Fanjingstan è di gran lunga il Golden Red Cloud Summit, con due templi sulla sua sommità collegati da questo affascinante ponte stretto. Questo filmato con drone offre una visione perfetta di questo sito patrimonio dell'UNESCO. Numero 3. Il Tempio Sospeso. Quando un luogo si chiama Tempio Sospeso, non puoi aspettarti niente di meno che una meraviglia storica del design architettonico e dell'abilità umana, e questo affascinante filmato con drone ci offre la migliore vista possibile. È decisamente scioccante vedere un monastero abbarbicato su una scogliera con nient'altro che travi di legno. Sicuramente non per i deboli di cuore. In ogni caso il monastero ha 1500 anni e si trova ad Atton, città nel nord della Cina. Le ali del monastero abbracciano i contorni della parete rocciosa attraverso fori praticati nella roccia e travi, trasversali di legno inserite in tali fori. Questo luogo non è solo un importante luogo di culto, ma anche un'incredibile opera di ingegneria, e definirla una vera meraviglia del mondo non sarebbe un eufemismo. Numero 4. Scalatore perduto. I droni possono catturare cose affascinanti, ma non c'è niente di meglio di una cattura con un drone che finisce per salvare la vita di qualcuno. E questo è stato il caso qui. Se non fosse per questo drone, molto probabilmente l'uomo non sarebbe vivo. L'uomo in questione è lo scozzese Rick Allen, 65 anni, scomparso mentre tornava dalla vetta di una scalata in solitaria al World Peak in Himalaya. Una scalata in solitaria a quell'età, quest'uomo è una leggenda assoluta. Ad ogni modo, si presumeva che Rick fosse morto, ma poi è successo qualcosa di scioccante. È stato scoperto da un drone ed è stato riportato al campo base con solo lievi ferite. Numero 5. Bellissime immagini effettuate con i droni del Monte Everest. Non si può parlare di montagna senza menzionare la montagna più alta del mondo, situato tra il Nepal e il Tibet. Il Monte Everest è considerato il punto più alto della Terra, con un'altitudine di 8.849 metri sopra il livello medio del mare. È affascinante. Ma la vetta più alta del mondo ha appena ottenuto una nuova prospettiva con questo raro filmato realizzato con un drone. Il 27 maggio 2022, una squadra di alpinisti e fotografi cinesi ha volato con un drone aereo dalla cima dell'Everest e là. Fotocamera ha catturato una rara registrazione della vetta dell'Everest dall'alto. Quando guardi questo video, non puoi fare a meno di rimanere stupito dall'enorme bellezza di questo luogo. Numero 6 Un drone scopre una scena impressionante in un ghiacciaio nascosto nell'Himalaya. Con i suoi 8.611 metri, il K2 è la seconda montagna più alta della Terra. La più alta è l'Everest. Un fotografo di nome David Kashlov si ha scoperto qualcosa di incredibile con il suo drone. In cima a un ghiacciaio vicino al Monte K2, era un ghiacciaio circondato da una pozza d'acqua larga 20 metri. Il luogo era straordinario e costituiva un quadro grafico molto pulito. Le foto almeno provengono da un altro mondo. David ha fatto un ottimo lavoro con queste foto, non c'è dubbio, e non avrebbe potuto farlo se non fosse stato per il drone che per primo ha scoperto questa gemma nascosta. Numero 7 Un vagante intrappolato in Kerala La nostra immagine in miniatura di oggi mostra un drone che cattura una persona in cima a una montagna. Sembra che in questa grotta sia stato ricavato un bel rifugio. Quest'uomo di nome Artù stava facendo trekking nella zona di Malampusa nel Kerala con altre tre persone. Ma poi cadde e rimase intrappolato in quella grotta vicino alla cima della collina. Era lì da solo durante il giorno finché un drone utilizzato dalla squadra di ricerca e soccorso non lo ha trovato. Immagina quanto siano rimasti sorpresi nel trovarlo in quella grotta. Numero 8 Formazioni rocciose di Manauna Conosciuti come i Sette Uomini Forti, si trovano nei remoti Urali settentrionali e raggiungono un'altezza di 42 metri in un paesaggio pianeggiante. Sebbene assomiglino alle rovine di una civiltà perduta, sono di origine naturale, formatesi circa 200 milioni di anni fa dall'erosione di antiche montagne. Venerate dagli indigeni locali, queste formazioni hanno anche suscitato esperienze spirituali in alcuni visitatori, che riferiscono un senso di appagamento e perdita di desideri durante la loro visita. Tuttavia, l'arrivo dei turisti, che a volte si arrampicano sulle rocce, ha generato tensioni con la gente del posto, che considera ciò una mancanza di rispetto. Si consiglia ai visitatori di mantenere un atteggiamento distaccato durante l'esplorazione di questa remota. Località sotto il circolo polare artico Numero 9 Mai Jishan, un mistero coinvolgente Le grotte Mai Jishan sono una raccolta di 194 grotte scavate nel fianco della collina Mai Jishan in Cina. In questo esempio di architettura rupestre si possono trovare più di 7200 sculture buddiste e mille, metri quadrati di murales. Furono esplorati a fondo per la prima volta nel 1952 da un team di archeologi cinesi, di Pechino, che idearono il sistema di numerazione utilizzato ancora oggi. Sono solo una delle tante grotte buddiste presenti in quest'area della Cina nord-occidentale, vicina alle principali vie di collegamento tra Cina e Asia centrale. È probabile che i santuari rupestri in Cina svolgessero due funzioni prima dell'arrivo del buddismo. Potrebbero essere stati usati come santuari locali per adorare gli antenati o varie divinità della natura. Questi siti, insieme ad altri lungo la via della seta orientale, sono stati iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO come parte delle vie della seta nel 2014. Numero 10 Harar, meglio conosciuta come la Stonenge svedese. È uno strano gruppo di pietre situato nel sud della Svezia, composto da circa 59 blocchi di granito del peso di 5 tonnellate ciascuno, posti in un anello a forma di nave lungo 67 metri. È stato creato circa 1.400 anni fa e la sua funzione storica non è ancora chiara. Secondo la leggenda, potrebbe essere il luogo di sepoltura di un re mitico, e la datazione al carbonio indica che corpi risalenti a 5.500 anni fa potrebbero trovarsi sotto la superficie. Tuttavia, alcuni esperti suggeriscono che il monumento servisse per osservare i cicli lunari e seguire il solstizio d'estate. La realtà è che nessuno lo sa per certo. Numero 11 La misteriosa isola di Mingo A prima vista non immagineresti che ci siano centinaia di case sulla piccola isola di Mingo. Quest'isola rocciosa si trova nel lago Vittoria, tra l'Uganda e il Kenya. Di che l'isola si trova in una zona ricca di pesca, esiste una disputa tra i due paesi sulla sua sovranità. L'isola non è più grande di 4.000 metri quadrati, ma ospita più di 500 persone. Le case su questa piccola roccia sono costruite con lamiere e la maggior parte della gente vive in povertà. Ad oggi, il numero degli abitanti di quest'isola continua ad aumentare. Numero 12 La chiesa più isolata del mondo Sono molti i luoghi sacri che si elevano in alto sulle montagne, dove i fedeli vengono ad adorare la loro divinità, ma nessuno è paragonabile alla colonna Katski. Il monastero più alto e solitario del pianeta è una chiesa che corona un'imponente roccia calcare alta 40 metri, situata a circa 200 chilometri a ovest di Tbilisi, la capitale della Georgia. Oggi, la maggior parte dei monaci che vivono li devono salire una scala metallica fissata al lato della roccia per raggiungere la chiesa. Ogni giorno compiono questa rischiosa salita per offrire le loro preghiere. La colonna Katski non è una destinazione turistica, ma piuttosto uno spazio di meditazione e culto per i monaci. Infatti, solo gli uomini di uno specifico ordine religioso possono salire sulla colonna, e le donne non sono mai riuscite ad accedervi in tutta la storia. I primi monaci che si stabilirono in cima alla colonna lo fecero nei secoli X e XI, li vissero in totale isolamento e dedicarono ogni giorno della loro vita alla preghiera. Al giorno d'oggi, tuttavia, i monaci salgono sulla colonna solo per pregare in chiesa, ma risiedono nel monastero sotto la colonna. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!